Il 14 gennaio del 1963 nasce a Roma Roberto Menichelli, allenatore campione d'Europa con la nazionale maggiore di calcio a 5. Dopo una parentesi nel calcio e una carriera vincente nel futsal da giocatore, Menichelli diventa allenatore nel 2004 frequentando il corso del centro tecnico di Coverciano. La sua intera carriera in panchina è legata alla federazione italiana gioco calcio ed inizia nel marzo del 2009 quando è chiamata la guida tecnica degli azzurri di calcio a 5 dopo un lungo periodo da vice, preparatore atletico e collaboratore tecnico. La prima esperienza è l'europeo del 2010 in Ungheria con l'Italia che non va oltre i quarti di finale. Il riscatto arriva però due anni dopo con la conquista di due medaglie di bronzo, una per il terzo posto agli europei in Croazia, l'altra per quello ottenuto ai mondiali di futsal disputati in Thailandia. È l'8 febbraio del 2014 tuttavia che Menichelli realizza il suo maggior capolavoro. Ad Anversa, in Belgio, batte la Russia nella finale degli europei conquistando così il secondo titolo continentale nella storia della nazionale di calcio a 5 dopo quello del 2003 a Caserta.